Mario Monti oggi a Bruxelles, REN, fiducia Italia, Barroso, per lui sfida immensa, ma ne ha l'autorità. Il Presidente del Consiglio Mario Monti è arrivato alle 13 nella sede della Commissione Europea a Bruxelles, accompagnato dal Direttore Generale del Tesoro Vittorio Grilli e dal Ministro degli Affari Europei Enzo Moavero. All'ingresso è stato ricevuto dal Presidente della Commissione, José Manuel Barroso, il quale ha stretto la mano davanti a giornalisti e fotografi. Rispetto al governo precedente, l'Italia andrà più a fondo nelle riforme istituzionali. Credo che sia importante, e questa è una convinzione anche di Barroso, che tra l'Eurozona e il resto dell'Unione Europea non si creano divisioni, perché ci sono forti interessi comuni, ha aggiunto il Premier. La FIOM si dice pronta allo sciopero generale della categoria contro la decisione della FIAT di disdire gli accordi sindacali. L'iniziativa sarà valutata dal Comitato Centrale convocato per martedì 29 novembre. Intanto, ha spiegato il leader Maurizio Landini, si parte subito con due ore di sciopero per assemblee in tutti gli stabilimenti del gruppo. Banche e boom di prestiti alle famiglie Dalle analisi del mercato dei prestiti alle famiglie emerge un tasso di crescita delle consistenze pari al 5,5% nel periodo tra settembre 2010 e settembre 2011, circa 615 miliardi di euro, quasi il doppio della media dell'area euro, 3,2%, quanto rileva l'ABI in occasione del convegno credito al credito 2011. Grazie a tutti.